in un bosco di abeti dei belli esemplari di lactarius turpis anche conosciuto come lactarius necator per il sapore molto molto piccante molto sgradevole del suo lattice io lo trovo bellissimo che ha questo colore bronzo dorato ma turpis vuol dire letteralmente turpe brutto anche di questo fungo ho fatto un video guardatevelo alla prossima